GF VIP 7, Gianluca Benincasa duro con Antonella Fiordelisi, quando saprai chi ti ha rovinato l'immagine ha il tuo stesso sangue. Gianluca Benincasa, ex di Antonella Fiordelisi, pochi minuti fa è intervenuto sui suoi profili social per durare la sua su quanto accaduto dopo la puntata del GF VIP 7 andata in onda ieri sera. Nelle ultime ore la famiglia della vippona si è scagliata contro la produzione delle reality show. Conduttore e opinionista, ovvero Rietta Berti, inclusi la mamma dell'influencer. La signora Milva, ha anche scritto una lettera aperta a Pier Silvio Berlusconi, suscitando una varanga di polemiche. Dopo aver assistito da lontano alla querelle famiglia Fiordelisi autori, Gianluca Benincasa ha lanciato un lungo giaccuse, esternando il suo pensiero in maniera molto forte. Dire uguale a LTR lang uguale it credo che per tutte le moine che stanno facendo mami e papi. La finale arriverà a breve e X1 F602, cioè ma si può dall'esterno influenzare un programma minacciando e sbraitando senza un senso GFVIP. di circa 30 minuti, a cura di S1 F602, cioè ma si può dall'esterno influenzare un programma di S2 F602, cioè ma si può dall'esterno influenzare un programma che stanno facendo. Grazie.